ciao e bentornati a crochet romance o benvenuti se siete qui per la prima volta anche oggi vi mostrerò un nuovo arrivato nel negozio e si tratta di un filato italiano della marca silk by arvie il filato si chiama madesimo e arriva in gomitoloni da 150 grammi ed è un misto lana vediamo però di preciso come composto ecco qua l'etichetta ci dice che il 25 per cento alpaca il 27 per cento lana il 48 per cento acrilico e sviluppa una metratura di 270 metri su 150 grammi questo è il colore numero 4 ed è un sfumato che va dal blu al beige al grigio chiaro e come vedete il filo è molto peloso e grosso ve lo faccio anche vedere sulla mano ecco qua però il filo è ben ritorto quindi si lavora facilmente con questo filato riuscirete a realizzare soprattutto sharp e scialli cappelli guanti per l'inverno se avete una pelle molto delicata non ve lo consiglio a contatto diretto sulla testa quindi magari se volete realizzare un cappello foderatelo internamente se siete se vi dà fastidio la pelosità ci sono persone che sono più sensibili altri lo sono meno l'etichetta ci consiglia di usare questo filato con i ferri numero 7 e 8 io sono d'accordo mentre per l'uncinetto lo lavorerei tranquillamente con un 5 e mezza 6 qui il campione ci dice che con nove maglie per 13 ferri con il lavorato con i ferri numero 7 si ottiene un quadrato 10 x 10 cm è un filato che bisogna lavare a mano potete anche stirarlo a bassa temperatura e sempre con un panno protettivo ovviamente lavatelo con il detersivo per lana per garantire che il capo vi rimanga bello nel tempo vediamo adesso gli altri colori questo è il colore dell'autunno per eccellenza tutte le sfumature del marrone più chiaro più scuro quasi tendente al nero del grigio dell'arancio bruciato e un pochino del ruggine e questo colore è il numero 19 poi abbiamo questo sfumato classico delle sfumature del grigio chiaro bianco del perla ed è il colore numero 21 c'è anche qualche punta di beige all'interno molto delicato molto bello e infine il più colorato arcobaleno con i colori che spaziano dal giallo al blu al rosso arancione al fucsia con qualche punta di lilla all'interno del blu ed è il colore numero 10 per realizzare un bactos vi potrebbe bastare un gomitolo per fare dei scialli più ampi io vi consiglio di prenderne due qua vedete anche un esempio di lavorazione che è stato lavorato con questo colore sul blu consiglio questo filato anche per i principianti perché ben ritorto e si lavora facilmente oltretutto con questo spessore si riescono a realizzare capi in pochi in poche in poche ore e non dovete continuamente cambiare gomitolo perché il gomitolo arriva già in 150 grammi come sempre vi lascio il link nell'info box per poter acquistare il filato e appena usciranno tutorial realizzati con il filato nadesimo villa ve li lascio sempre nell'info box in modo che potete prendere qualche idea per un prossimo progetto con questo filato per qualsiasi domanda lasciatemi un commento sotto nell'info box e se avete realizzato qualcosa con questo filato mi farebbe piacere vedere una foto che potete condividere nel mio gruppo facebook iscrivetevi al canale e mettete un pollicino in su se vi è stato utile questo video e noi ci vediamo prestissimo con nuovi progetti ciao